Parto dalle menze. Noi pensiamo che la qualità delle menze scolastiche debba essere valutata in base a criteri di alimentazione, di qualità del cibo, di qualità della modalità di somministrazione, non basarsi sui criteri di risparmio economico. Non si può risparmiare sul futuro delle nostre bambine e delle nostre bambine. Pensiamo che i piccoli cittadini comasti debbano trovare a scuola quanto di meglio esiste per la loro crescita e quindi favoreremo l'acquisto di prodotti per le menze scolastiche, di prodotti locali che garantiscano la provenienza da prodotti idrologici e biodinamiche e che non siano utilizzati prodotti gereticamente modificati, anche per i piccoli dei nuovi prodotti stagionali, come già diceva Reotti. Noi pensiamo anche che le menze scolastiche debbano rimanere pubbliche, sia perché è nelle menze scolastiche che prima di alimentare i nostri bambini forniamo educazione alimentare le loro famiglie e il motivo per cui devono rimanere pubbliche è anche perché nella nostra città abbiamo dei bambini che nelle menze scolastiche hanno il loro passo principale, forse a volte anche unico. Devono vedere anche nella menza scolastica che non ci sono differenze, i bambini e le bambine sono tutti uguali. Grazie.